allora ragazzi facciamo un video per farvi vedere dato che non è una cosa molto semplice come collegare alle autoradio che io amo tantissimo eccolo qua autoradio cinese come collegare il telefonino in modo che si veda poi il riprodotto su questa autoradio quindi ora lo sblocca ce la farà sì ok faccio dell'operazione che dovete fare impostazione sistema info telefono sul dove c'è scritto numero di build schiacciate tante volte fino a quando non vi chiede di mettere il la vostra sequenza di blocco la mettete c'è scritto ora sei uno sviluppatore fatto questo tornato indietro si apre queste opzioni questa opzione opzione sviluppatore scendete giù dove c'è scritto debug usb lo attivate fate ok ed eccolo che è uscito l'avevamo fatto prima non era aveva funzionato una funziona qui mettete logicamente consenti sempre da questo computer così e poi uscite e vi ritrovate il monitor del telefono logicamente fate girare attivate la rotazione del telefono abbiamo youtube così continuiamo così eccolo ma che abbiamo youtube sull'autoradio cinese maledetto chiaro ragazzi ciao ragazzi spero di essere di aiuto